My Face My Work è un racconto fatto di racconti, una storia nata qualche anno fa. Io sono un sognatore, uso gli strumenti che sento miei per creare progetti che ritengo abbiano un concetto profondo e umano. Se volete saperne di più, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i nuovi episodi. Io sono Fabio Massimo e questo è... My Face My Work È una cosa bellissima, è quella che manca a me. Cioè a me manca sta cosa, quindi vederla negli altri a me piace tantissimo. Perché dico, oddio, ma perché anche io non so così. Però è bello vedere gli altri che raggiungono i propri obiettivi solo perché hanno proprio questa forza di volontà. Ciao Tasnim, come stai? Tutto bene, e te? Tutto bene, grazie. Te l'hanno mai chiesto? No, forse sei la prima. Eh sì. Vedi? Ah, mi interessa veramente. Grazie mille. Se vuoi ti metti qua. Con quale nome sei conosciuta? Io sui social mi chiamo Alitasnim, tutto attaccato, non c'è nessun punto, nessuna separazione, quindi la gente pensa che in automatico mi chiamo Alita. Altri invece pensano che mi chiamo Tasmin, non Tasnim. E niente, però la maggior parte pensa che mi chiamo Alita, con cognome Snim. Invece è Ali, cognome, Tasnim, no. Che lavoro fai? Content creator? Non mi piace molto definirmi come influencer, perché al giorno d'oggi è vista un po' in modo strano. Però content creator mi piace. Alla fine creo contenuti appunto sui social. E anche se influencer potrebbe essere il termine più giusto per me, perché è quello che è successo con me. Io ho influenzato le persone. riguardo una religione, una cultura, qua è vista male. È ciò che sognavi da bambina? No, no. Non avrei mai sognato di poter arrivare a questo punto. Sembra impossibile, ma per chiunque, nel senso desiderare la fama, sembra sempre un desiderio un po' allontano. Anche perché quando lo desideri veramente e decidi di esporlo davanti a tutti, gli altri ti prendono per pazzo. Ah, ma questo vuole diventare famoso. Ma andò vai? Ma resta a casa tua. Fa lavoro come lavorano tutti gli altri. Anche solo pensare di volere una cosa del genere sembrava impossibile. Io e il mio piccolo desiderio era quello di diventare una giornalista. prima delle medie non avevo mai avuto un obiettivo vero e proprio. Questo obiettivo ce l'ho avuto appunto perché sono nati tantissimi articoli sui giornali dove dicevano che l'islam è sinonimo di terrorismo. Io ho desiderato fare la giornalista per poter rispondere a queste affermazioni. Penso sia un po' troppo tardi o penso che il modo in cui lo sto facendo adesso è il modo migliore, ma mai avrei potuto pensare di arrivare a un certo livello. Cosa ti piace fare nel tempo libero quando non sei sui social? Stare con mia figlia. Ora come ora stare con mia figlia. Prima ti avrei detto guardare una serie. Sono persone un po' troppo basic, nel senso non faccio niente di utile, se si può dire. Non vado in palestra, non faccio movimenti. Mi piace uscire con gli amici, con le mie sorelle soprattutto. Però fare qualcosa di vero e proprio oppure avere un hobby, quello proprio niente. Adesso veramente, veramente solo e solamente stare con mia figlia. Quando hai iniziato sui social e perché? Ho iniziato sui social proprio appena iniziata la pandemia. Non ti dico per noia, ma perché mia sorella piccola, ai tempi c'aveva dieci anni, mi ha fatto conoscere TikTok. In realtà io ero la prima a prenderla in giro, eh. Dicevo, ma che TikTok, quando vai? Ero come quelle persone che ti dicevano, quando vai? Resta a casa tua o stai a lavorare. Ho messo un video così per scherzo, proprio per provare. Ma era un video totalmente inutile. Ai tempi andava molto il lip sync, nel senso c'era un audio, io seguivo quell'audio. E' andato virale, la gente ha iniziato a commentare. Hanno iniziato a chiedermi perché indosso il velo, se non ho caldo, come faccio ad andare al mare, se mio padre mi può vedere senza, chi è che mi può vedere senza, ma ti devi mettere solo il nero. No, intanto siccome indosso il nero voglio rispondere subito. No, non devo indossare solo il nero. Su TikTok c'è questa possibilità di poter prendere ogni commento e rispondere con un video. Quindi riprendevo ogni commento e rispondevo in modo molto ma molto semplice, col solo scopo di rispondere a quella persona che mi ha fatto la domanda e non con lo scopo che questo video arrivasse ad altre persone. Cioè l'ultima delle mie aspettative era quello che l'Islam potesse interessare a qualcuno. Questa cosa non me la sarei mai aspettata. E non mi sarei mai aspettato che le persone mi ascoltassero e potessero cambiare idea. Questa era una cosa che per me era praticamente impossibile. Invece? Quanto è importante oggi giorno stare sui social? Tanto. Tanto. Tant'è che se non ci stai sei un po' definito o boomer. No, anzi boomer è definito più chi è più anziano e non ci capisce quasi niente. O se non ci stai per loro sei fuori dal mondo. No, ma come fai? No, te lo devi scaricare. Adesso mi dà il telefono, te lo scarico subito. Guarda, ho creato un account, cioè è quasi un obbligo. Sei quasi fuori dal mondo se non ce l'hai. Quando in realtà io penso che fuori dai social ci sia un mondo pazzesco. Quanto è difficile stare sui social? Tantissimo. È tanto difficile stare sui social. Perché c'è una responsabilità immensa. Tu pensa che è come stare a parlare davanti a un pubblico di quanti follower hai. Cioè, magari ti guardano le storie in 70.000 persone. Tu è come se stessi davanti a un palco a parlare davanti a 70.000 persone. Quindi ogni tua parola, ogni cosa che fai potrebbe essere un'arma che ti si ritorce contro. Per esempio, ti faccio un esempio. Sarò coerente con quello che dico. Perché io alcune volte quando mi arrabbio, quelle parolacce succede che le dico, soprattutto quando sto in macchina. Sui social questa cosa non succede e non succederà mai con me. Perché è una responsabilità enorme dover parlare con le parolacce sui social e far sì che altre persone possano prendere qualcosa di sbagliato da parte mia. Idem per le cose che io spiego riguardo la mia cultura, la mia religione. Se mi dico qualcosa di sbagliato è una cosa che mi si ritorce contro, ti ritrovi la gente contro, che ti dice guarda che hai sbagliato, ma che stai a dire, ma che stai a fare, capito? È una responsabilità. Vivi un po' con lo stress, però basta che pensi due volte prima di postare una cosa. Alla fine nessuno ti obbliga a pubblicare quella cosa che stai per pubblicare. I social che paure ti generano? La mia paura dei social, ora che sono così presente, è quella proprio di assentarmi. Cioè ho paura di assentarmi, di non essere mai abbastanza o di non essere all'altezza di ciò che la gente si aspetta da parte mia. Perché succede, capita. Come ti ho già detto e ti ho affermato, per me la vita fuori dai social è bellissima e non sono una di quelle influencer o content creator che fa vedere la propria vita, tutta la propria vita sui social. Io amo tenere tutto privato di mio. Quello che io voglio far vedere lo faccio vedere, ma quello che è mio lo ritengo mio e lo terrò mio sempre. Quindi il fatto di assentarmi, di non essere presente, questa cosa mi crea tanto disturbo, tanta paura anche. e non voglio che un giorno la gente possa smettere di seguirmi perché si annoia, perché non mi ritiene più come prima. Questa cosa pure mi crea un po' di paura. Mi crea paura non essere all'altezza delle aspettative degli altri, anche se questa cosa è sbagliata comunque sia. Alla fine sono nata sui social perché io sono io. Io sono così come mi vedi, così come mi vedi sui social. Però l'assenza è un problema per me. Quanto contano i numeri? Lavoriamo molto sui numeri, ma i numeri sono... Per me è bruttissimo definirli numeri. L'ho sempre pensato, forse non l'ho mai detto, ma chiamarli numeri alla fine sono persone. Capito? Questa cosa mi dà troppo fastidio perché se si perdesse poi l'amore loro perdi tutto, assolutamente. Ricominci da zero. Cosa cambieresti dei social? Toglierai tutti i numeri forse. Sì, toglierai tutti i numeri. Anche se da parte sono certo utilissimi per... Ti dico, per tipo brand che hanno aperto nuovi, hanno bisogno di un aiuto, di una spinta per poter lavorare, per poter vendere. Per quello sono molto utili i numeri. Cosa eliminare? I numeri, in senso che non mi piace che le persone vengano viste appunto come numeri. Cioè, tu sei Taslim, sei 180.000 follower. Cioè, sta cosa non mi piace tantissimo. Da quando hai iniziato i social? Ti hanno cambiata? Questa domanda io l'ho fatta a mio marito qualche tempo fa e mi ha detto che non sono cambiata. A me basta la sua risposta perché è lui la persona che mi vede tutti i giorni. E' lui che mi ha vista prima, mi ha visto dopo e sa perfettamente che come sono io adesso ero anche prima e lo sarò sempre perché non capisco il motivo del cambiamento. Ecco, non ci dovrebbe essere assolutamente. Come ti presenti su social così dovresti essere, così dovresti rimanere. Sei consapevole di quanto una persona sia influente? Sì, sì. Ti posso dire che all'inizio non me ne rendevo conto. Sono una persona che si rende conto delle cose molto dopo, molto più tardi. Non so se ritenere la stupidità, ingenuità, non so che cosa sia esattamente, però è veramente così. Infatti ho iniziato a rendermi conto di questa notorietà quando andavo in giro, quando la gente mi fermava. Lì ho detto c'è qualcosa di serio dietro, non è uno scherzo. Il fatto che io mi renda conto di quanto io stia influenzando le persone è anche grazie ai loro messaggi perché arrivando a chiedermi scusa per quello che pensavano riguardo una religione che non si è dovuto a venire a chiedere scusa a me, però la gente sentendo quello che io raccontavo cambiavano idea, quindi li influenzavo e venivano a chiedermi scusa perché avevano avuto un cattivo pensiero riguardo la religione. nella quale io stessa credo è come se dovessero qualcosa a me, ma a me non devono assolutamente niente. Il fatto che loro abbiano già cambiato idea è qualcosa, quindi credo di influenzare abbastanza da questo punto di vista. Anche per quanto riguarda i brand che adesso stanno iniziando a introdurre anche le ragazze col velo e le ragazze di jabiste, questo credo sì che influenzi tanto, quindi sì, adesso ne sono abbastanza consapevole. Quanto vuoi essere originale? Tanto, se non sei originale non vai virale, quindi il tuo lavoro non va, devi essere... e questa è la cosa brutta anche, perché è vero che molti sottovalutano comunque questo lavoro e dicono, ma non c'è niente da fare, ma non è lavoro, non è niente, non sta a fare niente, però in realtà dietro ci sta molto lavoro, come questo che stai facendo te per esempio. Dietro ci sta tantissimo lavoro di cui magari la gente vedrà veramente 30 secondi di video, può essere 25 minuti di video, ma dietro non ci sono stati 25 minuti. e idem per il nostro lavoro, cioè, devi stare a pensare sempre a creare qualcosa di nuovo e di originale che possa piacere alla gente. Magari ti ci metti pure un'ora a pensarci, può pure non piacere comunque, quindi è abbastanza difficile. Cosa intratchiene uno spettatore davanti a un format che si ripete? Forse la persona stessa. Magari io come Tasnim, se dovessi fare un video come qualunque altro creator, potrebbe catturare l'attenzione se dovessi parlare del velo, che è un qualcosa che, anche se lo sto facendo, lo fanno in pochi, quindi potrebbe catturare un po' di più, ma non perché so io, ma è per la questione del velo che non è sentita e magari incute curiosità nelle persone. Quindi faccio lo stesso format, però con la persona diversa, potrebbe catturare l'attenzione. Da cosa sei ispirata? Cosa ti spingi a condividere? Dalle persone stesse che mi seguono e dalle persone che potrebbero seguirmi, perché sono loro che mi portano a pensare cosa potrebbe piacere a loro e non cosa potrebbe piacere a me. A volte penso anche cosa potrebbe incuriosire me per capire cosa potrebbe incuriosire loro. Cos'è per te la creatività? Stare tanto sui social, anche. Perché stare sui social ti aiuta a essere creativo, ti aiuta a creare appunto nuove idee, a non restare in un unico buco e a vedere altrove, si può dire vedere altrove? Vedere oltre. A vedere oltre. Sicuramente stanno in giro no, non mi viene da pensare alla creatività. Forse con gli amici, con una discussione, un argomento, questo potrebbe creare creatività. Quanto contano le collaborazioni con le aziende? Com'è il rapporto con loro? Ti lasciano libera o ti danno vincoli che limitano la tua creatività e modo di essere? Diciamo che mi lasciano libera. Alla fine loro vogliono me perché mi vogliono. E vogliono a me perché vogliono che io resti come sono. Però mi danno le loro indicazioni perché sennò non avrebbe alcun senso. Ti mandano il brief con tutte le indicazioni di ciò che vorrebbero che tu dicesti o come vorrebbero che tu rappresentassi un loro prodotto e io lo faccio ma a modo mio. Quindi loro ti danno solo i punti fondamentali. Tra l'altro una cosa troppo forzata, se si può dire, o una cosa con troppe indicazioni, non mi rappresenterebbe. E se non mi rappresentasse la gente sarebbe poco interessata perché alla fine la gente ti segue perché sa che tu sei così. Se tu un giorno dovessi cambiare la gente non ti seguirebbe più. Per te stare sui social è un lavoro? Assolutamente sì. Non so se lo posso dire però io se mi sono comprata una casa è anche grazie a quello. Nel senso è assolutamente un lavoro. È esattamente come se stessi in tv a fare pubblicità di un prodotto però lo faccio sui miei social. Quindi assolutamente sì perché c'è del guadagno dietro quello che tu stai facendo sui social. Io ti ripeto appunto questa cosa. Se c'è un piccolo brand che vuole avere più visibilità, alla fine il brand con cosa lavora? Con le persone che vedono la sua pagina, con le persone che vedono i loro prodotti. I temi negozi è come se tu stessi camminando in giro, davanti al tuo negozio ci sono cinque persone ma con un account che ha magari un milione di follower te lo vedono in cinquecentomila persone. Capito? È come se davanti a quel negozio ci sono cinquecentomila persone. Quindi è assolutamente un lavoro. È un lavoro questo. Lo fai più per lavoro o per spirito di condivisione barra voglia di creare? Spirito di condivisione. Io ho sempre detto che il lavoro per me va bene, è bellissimo e soprattutto importante. Soprattutto mo' che c'è pure una bambina quindi è ancora più importante. Magari prima manco mi interessava. Io sono una che veramente vive pure con l'aria. Sta benissimo pure l'aria. Non mi interessa tantissimo questa cosa del monetizzare o di avere soldi. La creatività è quella con cui io sono nata sui social. Io sono nata parlando di una religione, di una cultura. Parlo di religione come Islam, cultura come cultura egiziana. Ed è quello che mi piace fare. A me piace anche iniziare a pensare. Ti faccio un esempio proprio il fatto di vedere mia mamma che prepara un riso in modo particolare. Mi fa venire voglia proprio di condividerlo con le altre persone per fargli provare anche a loro un qualcosa che fa parte della mia cultura. Quindi è una cosa più per creatività, per creare, per condividere con le persone. Perché mi piace vedere le persone che cambiano idea. Lo faresti ugualmente se non ci fosse un guadagno? Sì, assolutamente sì. Sono partita senza sapere manco che ci fosse dietro questo mondo. Figurati se non lo farei di nuovo. È bellissimo solamente il fatto di poter camminare in giro, vedere una persona che ti ferma e ti ringrazia per quello che fai. C'è tanto amore da parte della gente che ti fa venire voglia di continuare ancora. Anzi, ti ripeto anche questa cosa dell'assenza che a me mette tanto paura. Io ho paura di assentarmi per non poter ricevere più questo amore che la gente ti dà. Ricordi quando hai cominciato a funzionare? Sì, quando una ragazza che non era neanche di Roma mi ha fermato per strada e non capivo. Perché comunque i numeri che aumentavano sui miei social per me erano numeri immaginari, falsi, finti e inesistenti. Quando questa ragazza mi ha fermato ho pensato allora aspetta c'è qualcosa che sta andando veramente. Sono diventata consapevole di quello che sto facendo. Un'altra cosa, un altro episodio che mi ha fatto rendere conto di quello che sto facendo è stato quando sono stata contattata dalla mia agenzia. Non ero stata contattata solo da loro, solo che loro come agenzia con tutti i talent che hanno, con tutto il lavoro che fanno, per me è stata una cosa, un passo enorme che mi ha fatto rendere conto molto di quello che sto facendo. L'amore della gente. Perché molte persone diventano famose sui social ricevendo critiche o ricevendo odio. Comunque pur essendo odiate oppure essendo poco amate diciamo che vengono comunque seguite. Invece la cosa che a me piace tanto è proprio l'amore delle persone, il fatto che io non abbia veramente così tante critiche, il fatto che io non venga seguita perché odiata ma perché faccio qualcosa che è quasi utile per le persone. Cosa faresti oggi se non avessi intrapreso questa strada? Oggi sono sposata, sono una mamma. Era uno dei miei più grandi obiettivi tra l'altro nella vita. Non sicuramente a 23 anni però sì, è un obiettivo. Non ti dico che avrei continuato gli studi per fare giornalismo perché non so se veramente quella sarebbe stata la mia strada anche se insisto nel continuare gli studi. Ho avuto difficoltà comunque nel continuarlo e per questo non ho continuato. Non per i social e non per la famiglia. Adesso per la bambina forse sì, mi sarei fermata. Però forse oggi... non so, farei la giornalista ma non in cartaceo. Dove ti vedi in futuro? Qui. Qui, qui. Qui dove sei tu. Qui. Adesso a casa mia. Mi vedo con la mia famiglia. Non so per quanto durerò sui social perché io sono dell'idea che... I social sì, sono una cosa importantissima ma non so quanto durerò io. Nel senso quando appunto gli spiego il lavoro che faccio Eh, ma trovati un lavoro serio più duraturo. Un po' a me mi ci fanno pensare a sta cosa. Quindi non è che posso dire di vedermi sui social. Spero, ci spero tanto. E spero anche di aprire un brand mio. È un obiettivo che vorrei da tanto tempo. Un brand di veli. Avevo anche l'obiettivo di fare un brand di abilità sposa. Spero che la prossima volta che ci vedremo non ci sarà veramente un brand. Rifaresti tutto? Tutto. Dalla A alla Z. Non cambierei niente. Chi è Tasnim? Cosa non sappiamo di te? Tasnim è una ragazza estroversa che ama tantissimissimissimo la vita che mette Allah in primo piano poi la sua famiglia. e molti non lo capiscono ma dietro questo amore verso la religione c'è tanta fede ed è quello che io ho dentro e che difficilmente riesco a spiegarlo riesco a spiegare questo amore che tengo io. Questo è il problema. Sono pazza. Mi piace. Mi piace la pazzia, mi piace la follia mi piace ridere, mi piace scherzare mi piace creare problemi oh sono un macello io veramente non lo dico tanto per dire oh io sono un macello sono veramente un macello e una cosa che non sapete di me non mi piacciono le lasagne sì, di spesso forse sono anche più romana che egiziana ho sangue egiziano sono nata ad Arezzo sono cresciuta a Roma ma mi sento più romana che egiziana anche siamo follemente l'Egitto l'Egitto per me è veramente sinonimo di casa però Roma vale tutto vale tutto Che consiglio ti senti di dare a me che sto incominciando? Di continuare a fare quello che stai facendo non c'è niente di sbagliato in quello che stai facendo non è sbagliato neanche in una cosa il fatto che tu abbia preso tutto questo tempo per pensare al progetto non è sbagliato anzi giustissimo perché hai preso tutto il tempo giusto per focalizzarti su cosa devi fare le persone da cui hai cominciato per fare questo progetto è giustissimo? La qualità? Quali sì e quanto amore ci metti? La tua disponibilità, il tuo tempo il tuo tempo lo stai donando e anche il tuo amore per il tuo lavoro questa cosa è molto molto importante quindi ti consiglio di continuare a fare quello che stai facendo come hai iniziato e di continuare a farlo con la stessa costanza cioè se cambi hai sballato tutto Grazie mille E grazie a te Adesso che ti ho conosciuto un po' di più ti porto nel mio mondo vorrei ritrarti tramite ciò che amo fare la fotografia e condividerti attraverso ciò che tu ami fare e che io sto a cominciare a fare i contenuti social Ok, volentieri Grazie mille Alla fine ti ho conosciuto tramite quello Ho visto il tuo profilo ho visto i lavori che hai fatto ho visto anche l'amore che ci metti perché alla fine a te nessuno te corre dietro per fare quello che stai facendo invece sei te che stai correndo dietro al tuo progetto ed è una cosa da ammirare